Ora sono pronta a sacrificare me stessa per dare inizio alla vita. Sto tremando, il mio cuore batte più veloce. E ho freddo, tanto freddo. Ma che diavolo succede? Ci sei arrivato adesso? Giulia, la donna più bella di Natto. Tocchi, molto presto. Giulia, la donna che tutti vorrebbero accanto, sarà mia, solo mia. Lei è una delle poche cose a cui io tenga veramente. Attento, Raul. Giulia non è una cosa. In lei c'è molto di più. C'è l'amore. Amore? Non dire eresia. Che cos'è l'amore? Un'invenzione paranoica dei mortali. Dici così perché non capisci. Ma ricorda, un giorno il tuo viso verrà rigato dalle lacrime e in quel momento il tuo scefficismo svanirà. Soltanto allora la tua mente si aprirà e potrai comprendere l'amore insieme alla tristezza. Tocchi, ma perché ho ripensato a quelle parole? Perché? Ma cosa? Sono lacrime. E' questo? E' questo l'amore di cui parlavi, Tocchi? E' questo l'amore di cui parlavi.